Siamo festeggiando questo giorno particolare, ragazzi che hanno partecipato ad un concorso al quale hanno aderito tutte e venti le banche di credito cooperativo delle Marche, stanno ora qui presentando i loro progetti, è un modo per abituare i giovani allo spirito della cooperazione, riteniamo che i valori della cooperazione si debbano riproporre fin dai primi anni delle scuole per fare in modo tale che in un momento così particolare e difficile come quello che stiamo attraversando dal punto di vista economico e sociale, possiamo far conto sui giovani che hanno imparato a lavorare insieme, a condividere valori importanti e ad esserne poi testimoni nell'attività e nel lavoro di ogni giorno.